Il primo incontro è stato messo in rete, sia su Epic che sul sito del Movimento 5 Stelle quindi andando attraverso il sito di Grillo lo potete recuperare e in fondo al comunicato che è uscito in fondo c'è un link e vengono fuori tutte le diapositive dell'altro giorno Io darei subito la parola a Eleonora per la seconda lezione e insomma buon ascolto come l'altra volta ci saranno gli interventi brevi, concisi e chiari Buonasera a tutti, questo è il secondo incontro in questo ciclo di 10 ringrazio il Movimento 5 Stelle per questa opportunità ringrazio anche Epic, l'altra volta non l'ho fatto e in particolare i ragazzi del gruppo economico che mi sostengono nel preparare i materiali, nel risolvere i vari dubbi e questo mi pareva insomma doveroso e iniziamo subito con l'intervento di oggi e questo intervento avrà due nuclei formativi principali uno di carattere teorico, cioè voglio darvi un quadro ovviamente molto sintetico solo per potervi muovere di quali sono le teorie macroeconomiche principali perché poi a secondo delle teorie del background di ogni economista l'interpretazione dei dati reali e le varie ricette sono diverse quindi per permettervi anche un po' di leggere un articolo di giornale e riuscire a capire qual è il presupposto che sta dietro ai ragionamenti della persona che parla parto con un piccolo ripasso in realtà questo era l'oggetto del precedente intervento allora una moneta si dice sovrana se soddisfa tre requisiti cioè è di proprietà dello Stato non è convertibile in metalli preziosi ha un tasso di cambio flessibile cioè può fluttuare nel mercato a seconda delle caratteristiche dell'offerta e della domanda esempi di monete sovrane sono il dollaro, lo iene, il renminbi, il franco svizzero una moneta non sovrana è l'euro, quella che abbiamo noi perché non appartiene agli Stati perché gli Stati non la emettono e alla BCE viene fatto espresso di vieto di finanziare i deficit pubblici questo per articolo 123 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea se lo mettete su Google lo potete leggere nei vostri occhi ora vi do una differenza a grandi linee cioè a grandi linee una differenza importante la differenza tra microeconomia e macroeconomia perché vi serve un attimo per capire che quello che diciamo non è adatto, cioè non si attaglia alle esigenze del piccolo, del privato, della singola azienda perché la microeconomia è lo studio del comportamento e delle scelte dei singoli operatori del sistema economico cioè famiglie, i singoli operatori sono famiglie, imprese, pubblica amministrazione eccetera e funziona individuando un soggetto rappresentativo per ogni categoria, se lo studio è il comportamento le scelte e l'interazione con gli altri operatori per esempio la teoria del consumatore è una teoria tipica della microeconomia cioè si prende un consumatore tipo e si vede come effetto ha le sue scelte di consumo invece la macroeconomia che è di fatto l'oggetto degli incontri che sono stati organizzati studia il sistema economico nel suo complesso considerando solo le variabili aggregate quindi il reddito nazionale, il consumo nazionale, il privato e la spesa pubblica uno degli oggetti studia per esempio l'inflazione generale dei prezzi la microeconomia non si occupa delle conseguenze che le scelte il singolo opposto possono determinare sugli altri di questo si occupa la macroeconomia studiando appunto tutte le variabili aggregate per cui un manager di un'azienda ovviamente spingerà l'azienda secondo scelte microeconomiche cioè che valutano quali possono essere i fattori migliori che aiutano di più l'azienda in questione al di là di poi quali sono le ricadute a livello generale sugli altri agenti quello non importa, l'importante è il singolo tutti gli altri, cioè come invece la scelta ha impatto sull'aggregato cioè su tutti gli altri questo lo studia la macroeconomia adesso arriviamo a quello che dicevo prima quali sono le scuole di prezzie e lo principale in macroeconomia già qui lo vediamo Keynes e i post-kenesiani i neoclassici l'economia moderna nasce in una visione unitaria con Adam Smith, David Riccardo e John Stuart Mill con la fine del XIX secolo a seguito del lavoro di John Maynard Key si vengono a determinare due grandi teorie macroeconomiche cioè la teoria eterodossa e la teoria mortodossa o neoclassica marzisti, poxkenesiani, sraffiani fanno parte della prima categoria la Montpellier Society con la scuola di Chicago i nuovi classici, i gastrici e i neocenesiani fanno parte della seconda teoria attenzione, qua ci ho messo mainstream perché questi qua questi signori qua sono quelli che hanno colonizzato praticamente i gangli del potere e anche dei media quindi la campana neoclassica è quella che praticamente sentite la maggior parte delle volte che aprite il giornale e ecco il motivo per cui ve lo sto spiegando perché voi dovete aprire il giornale e dire questo parla così perché pensa, ha come base in questo tipo di presupposto questa ipotesi di base e allora vi dice questo se le ipotesi cambiassero anche il ragionamento logico l'argomentazione dei vari problemi cambierebbe ah, scusa, un'altra cosa neocenesiani dei neocenesiani fa parte anche Stiglitz uno famoso, poi lo vedremo non è che vuol dire che non sono persone che derivano da Keynes sì, derivano da Keynes ma il neo sta per neoclassica quindi sono persone che hanno sempre questo tipo di approccio di base seppure un po' più edulcorato poi dopo magari ve lo faccio vedere nel dettaglio allora come indica il loro nome i post-kenesiani si ispirano al lavoro di John Maynard Key il famoso economista all'università di Cambridge praticamente Keynes pubblicando la teoria generale dell'occupazione e dell'interesse della moneta nel 36 ha di fatto dato in Italia la teoria macroeconomica perché prima appunto avevamo detto che c'era un unico filone economico che derivava direttamente a Smith il palle dell'economia dopodiché sulla scia del lavoro di Keynes John Roy Harrod e poi negli anni 50-60 Caldor, Michael Kaleski e Pietro Zraffa che è un italiano fondarono la scuola di Cambridge e quindi istituirono a questo polo importante che sviluppava le idee keynesiane adesso cercherò di dirvi in due parole che cos'è che diceva Keynes perché se sentiamo parlare di politica keynesiana politica keynesiana ma se no non sa quello che Keynes diceva di fatto è una parola vuota allora, prima di tutto Keynes capisce che di fatto non è vero come dice la legge di 6 o quantomeno confuta, critica la legge di 6 che dice l'offerta crea la sua stessa domanda cioè se io produco 10 sciserie il fatto che l'abbia prodotto e questo genere la domanda invece Keynes istituisce il principio della domanda effettiva cioè dice il livello di produzione di una nazione cioè il sovreddito, il PIL il prodotto interno nord e di conseguenza l'occupazione che ne veniva più ho prodotto interno più ho gente che ci lavora sono determinate dalla domanda cioè se io ho 10 persone a cui serve una poltrona di un certo tipo e lo so mi attrezzerò a produrla Keynes capisce anche il concetto anche il concetto di riserva di moneta come riserva di valore cioè non è detto che si spenda tutta la moneta acquisita per reinvestirla questa cioè può essere desaurizzata uscendo dal ciclo produttivo l'eccesso risparmia crea deficit di domanda infatti lui diceva quando si risparmiano 5 scendini si lascia senza lavoro un uomo per una giornata cioè i risparmi vengono visti come qualcosa di positivo e lo sono per noi che non produciamo la moneta cioè per noi il risparmio che sta nel conto corrente è una sicurezza perché siccome non la possiamo stampare è garanzia per noi di un acquisto di beni futuri però a livello aggregato ecco perché vi ho spiegato macroeconomia che significa a livello aggregato questa cosa è un male perché trena toglie liquidità dal sistema cioè io mettendomeli da parte evito di comprare beni e servizi e quindi di fatto l'economia gira di meno in più altra altra questione importante su cui puntò Kane che impose in discussione l'idea che l'economia che il mercato si autoregola questo è un assunto che per i neoclassici è diciamo incontrovertibile il mercato è Dio e quindi il mercato si autoregola perché funziona come una funzione matematica esatta cioè io ho degli elementi in un'equazione e basta che tolgo aggiungo di qui o di là in maniera matematica e il mercato vada sì non c'è bisogno di nessun intervento esterno invece Kane che dice il mercato è fatto da uomini che sbagliano e che non seguono logiche matematiche anzi cercano di prevedere i movimenti del mercato come in un gioco azzardo quindi a livello micro quando io cerco di spingere la mia azienda di fatto faccio una previsione scommetto in qualche modo che i miei compratori si comporteranno così ma non sempre ci becco non è detto che io abbia sempre ragione e quindi che diceva il capitalismo non regolato è soggetto a gravi squilibri il mercato infatti non è efficiente né giusto è necessario guidare l'economia attraverso precise politiche monetarie e fiscali quindi emettendo moneta e decidendo chi paga le tasse e quanto poiché i mercati non sono sempre in grado di raggiungere equilibri efficienti da soli ma anzi in più delle volte falliscono la disoccupazione di massa ne è l'esempio evidente va bene questa è la citazione che poi l'importante è il primo che dà l'economia come obiettivo primario la piena occupazione infatti la teoria economica classica sosteneva che il mercato da solo perché si autoregola e capisce e tutte le varie le variabili si riequilibrano da sé quindi il mercato lo so avrebbe portato alla situazione e alla piena occupazione e il fatto che non ci fosse era dovuto a attribuirsi al fatto che i sindacati non accettavano di farsi tagliare i salari cioè se l'equazione matematica è quella e io con la variabile di assenza dei salari devo farla modificare in un certo modo se le parti sociali fanno istruzionismo è per quello che non raggiungi la piena occupazione non perché il mercato da sé non funziona invece secondo Keynes la riduzione salariale avrebbe indotto i lavoratori risparmiati di più e risparmio vi ricordate toglie denaro dal circuito e risparmiando di più deprime la domanda e abbiamo detto che per principio la domanda effettiva è la domanda che crea l'offerta cioè gente che me compra che mi spinge a investire a produrre di più infatti adesso abbiamo i magazzini pieni e la gente licenzia e non si investe perché le aziende non sanno che pesci prendere e quindi e quindi Keynes dice se te riduci troppo i salari deprimi la domanda e quindi di conseguenza la macchina si blocca e addirittura Keynes faceva un passo più là diceva che se tu spingi la cosa l'occupazione troppo troppo spingi troppo l'acceleratore alla fine potrebbe diventare la normalità la sottooccupazione cioè il mercato si autoregola però si autoregola in una condizione di sottooccupazione perché le variabili giocano in quella maniera lì e di conseguenza non ti muovi più se il PIL e l'occupazione dipendono dalla domanda appena aumentarli occorrerà quindi incrementare la domanda aggregata per domanda aggregata si intende la domanda dell'intera nazione in altre parole per uscire da una crisi è necessario che qualcuno spenda di più in modo da assorbire la produzione in eccesso ed eventualmente indurre le imprese a paura di più infatti il PIL è definito poi questa equazione la vedremo anche più in là dai consumi più gli investimenti più la spesa governativa più la differenza tra export e import quindi quello che riesco a vendere all'estero è quello che devo comprare per me ma in una situazione di crisi di tutte le manovre di politica economica in soccorso in settore privato potrebbero non bastare cioè potrebbe anche darsi che se diminuisco il tasso interesse sui mutui per cui potete prendere più soldi a meno prezzo oppure svaluto la moneta oppure applico una politica fiscale vantaggiosa quindi che ne so detasso il lavoro va bene oppure che ne so la gente in l'Aquila gli devono paghi più le tasse potrebbe ovviamente non bastare allora Keynes fa un altro passo e dice bisogna che lo Stato si occupi di produrre e monitorare tutto ciò che il privato non riesce a produrre e quindi che monitori la situazione non solo facendo sulle tasse il tasso interesse dei mutui o comunque di come tu riesci ad acquisire la moneta ma anche avendo sempre pronto un piano di investimenti pubblici al fine di riequilibrare il sistema economico tramite l'iniezione di domanda aggiuntiva Keynes era ben consapevole infatti dei limiti al capitalismo nell'indirizzare correttamente gli investimenti quindi dice se tutte le manovre che tu potresti fare di politica economica non bastano e tu hai bisogno di aumentare la domanda perché l'obiettivo è la piena occupazione la domanda la devi creare tu quindi tu fai un piano produttivo di investimenti statali e poi assumi la gente la gente guadagna e compra infatti nell'Europa e dopo guerra i governi hanno sposato la concezione keynesiana cioè le aziende di Stato e le partecipazioni pubbliche hanno svolto un ruolo di indirizzo degli investimenti e con questo tipo di politica siamo diventati uno dei maggiori produttori paesi capitalisti al mondo l'italietta della lira compresi quelli privati tanto che spesso l'italiano di Stato sono stati campioni nazionali che hanno aiutato la crescita dell'economia di diversi paesi e la loro competitività anche attraverso l'innesco di fecondi processi innovazione e tessuto produttivo poi negli anni 80 dagli anni 80 e poi si è assistito a una costante privatizzazione delle aziende pubbliche ci siamo venuti tutti c'è le famiglie poi ci torneremo su che cosa abbiamo venuto alla dismissione delle partecipazioni statali e alla deregolamentazione dell'economia e della finanza con il risultato che i principi neoliberalisti hanno avuto in sopravvento ovviamente sono riusciti a fare questo perché poi hanno colonizzato come dicevo prima sia i gangli del potere che i miglia l'università sì sì l'hanno formato nell'università e poi dopo c'era chi andava a fare giornalista e c'era chi andava a fare il manager oppure il tesoro ora vedrò dei brevi schemi che sono stati teorizzati approntati da Axel e Leijon Ulf il nome è difficilissimo nel 76 e lui praticamente ha identificato isolato i presupposti i concetti essenziali che precedono la costruzione delle teorie e delle ipotesi quello che vi dicevo io prima sono una sorta di credo metafizici che regolano un paradigma cioè le linee guida seguendo le quali poi dopo sta gente ricerca e arriva alle sue teorie questi paradigmi sono questi qua per gli eterodossi e per i neoplastici gli eterodossi realismo contro strumentalismo sono difficili i nomi poi ve li spiego olismo individualismo razionalità procedurale per razionalità produzione e crescita contro scambio e scattità intervento dello Stato contro il libero mercato iniziamo allora dal punto di vista epistemologico gli eterodossi che dicono le ipotesi devono essere reali cioè lo scopo dell'economia è far capire cosa avviene nel reale e per fare ciò si deve partire da una sintesi principali fatti reali e non da una strazione da una situazione ipotetica reale gli eterodossi fanno il contrario cioè te l'hanno partono da un'idea da una strazione da una teoria che è ideale che funziona sulla carta e poi però il suo realismo non ha nessuna importanza le teorie non sono degli strumenti e non devono pretendere scoprire il reale il reale funzionamento dei sistemi economici per cui questi fanno le teorie e dicono funziona così l'equazione punto de là invece te dice com'è la realtà così come mai e cercare di capire come risolverla quindi l'approccio è diverso poi bolismo contro individualismo l'angolismo deriva d'oro sin greco che significa tutto intero per capirci come quando io guardo dal dottore dal dottore c'ho una ferita o una che ne so come si dice una malattia alla pelle allora c'è il dottore che me da prende e me da la crema locale c'è la schiazza e me passa e questo è l'approccio classico un approccio onistico è medicina che ti dice come stai che mangi tu moglie non te la la ok tutte queste cose allora te piglia te piglia te piglia la psoriasi tutte queste cose va bene non dormi va bene quindi questo è un approccio onistico cioè ti dice che l'individuo è un essere sociale influenzato dall'ambiente in cui vive e che le istituzioni non sono formate dall'aggregato dei desideri dei singoli individui ma hanno funzioni loro cioè le istituzioni funzionano perché hanno degli obiettivi loro statutari che non è la somma degli individui perché infatti le istituzioni debbono dare stabilità al sistema economico perché appunto dovrebbero darsi le regole che non partono dall'esigenza dell'individuo ma dall'esigenza della comunità invece per gli ortodossi praticamente l'individuo è l'unico che conta e le scelte delle istituzioni come banche e imprese sono determinate dalla mera somma del volere dei singoli individui quindi quello che va bene per uno siccome uno più uno va bene per tutti poi razionalità procedurale contro iperrazionalità praticamente razionalità procedurale si intende che bisogna avere un approccio razionale al problema sulla base di come tu puoi procedere cioè gli ortodossi dicono tu non puoi avere informazioni infinite e calcoli perfetti per cui siccome le informazioni non sono infinite perfette trasparenti e nemmeno i modi come tu processi queste informazioni sono così tu puoi avere un approccio al problema che è limitato all'informazione al modo che tu hai di gestire quel problema invece gli ortodossi ti dicono che le informazioni sono perfette e le capacità di calcolo sono pressoché limitate per cui ritorniamo a se riancancio tutto a quello che dicevo anche prima cioè io do l'equazione l'equazione dopo il scontato che esaurisce tutte le informazioni che io devo avere e il modo che ho di gestire l'equazione è perfetto per cui non c'è nient'altro oltre quello per esempio se uno pensa potrebbe pensare che la fisica da Newton oggi ha fatto un sacco di pasti quindi gli ortodossi si approcciano come se la scoperta di Newton fosse assoluta invece adesso abbiamo scoperto che lo so di X per cui qual'altro c'è poi qual è l'analisi gli ortodossi pensano che l'economia sia alta a incrementare a sviluppare la produzione e la crescita che sono lo scopo dell'economia e che di fatto sono possibili perché la produzione e il processo il progresso tecnico e la produzione determinano un aumento della qualità di vita per cui l'economia ha come obiettivo quello di migliorare le qualità di vita la qualità di vita tramite la produzione degli oggetti e anche l'innovazione tecnologica che migliora le capacità produttive quindi il presupposto è che non c'è scarsità di beni anzi l'uomo può migliorare per migliorare la propria vita invece Lionel Robbins dice proprio da una definizione l'economia è la scienza dell'allocazione ottimale delle risorse scarse quindi per i neoclassici i beni che hanno valore sono scarsi il prezzo di quei beni deve rappresentare deve rispecchiare il loro valore e quindi di fatto tutta l'economia deve fare i conti con una scarsità di fondo il lucro politico l'abbiamo già parlato perché per gli ortodossi siccome i mercati sono imperfetti c'è bisogno di sostenere scusate c'è bisogno che i mercati specie quelli finanziari vengano regolati che lo Stato protegga la proprietà privata e che regoli gli scambi invece gli ortodossi dicono che lo Stato non deve inventarci niente perché il mercato si regola da sé e quindi alla fine l'economia sicuramente si riequilibra basta che ci sia la totale praticamente la concorrenza non venga limitata ci sia accesso alla piena informazione e i prezzi siano prestibili questo è vabbè ve l'ho messo solo perché se volete guardare le slide qua ci sta la scuola ortodosse i cristiani liberali i conservatori si parte da Smith e poi vi fa vedere tutte le varie le varie famiglie con i nomi e vabbè ovviamente solo se che ne so vi capita di leggere una cosa e volete vedere quello a chi appartiene e basta invece questo è un albero genologico uguale di economisti però con nomi più più recenti allora questi in giallo sono i neoclastici questi in azzurro sono i neoclianesiani come ricordate ho detto che il neo sta per neoclastici e quelli in verde sono i post-kenesiani qua ci troviamo Lerner ne sentiamo parlare Vinsky Randall Ray che ancora questi sono tutti vivi qua c'è Stiglitz che scrive spesso Summers Mancchio pure un altro che scrive spesso dei qua si sente la canna e niente poi sono persone che potete trovare tranquillamente che ne so in una traduzione di solo 24 ore qualche giornale economico inglese perché scrive che devi fare che devi fare no niente proviamo a guardare Peppe che è là fuori che poi se vuole entrare Peppe non è la ricchezza quello che è la ricchezza è il PIL c'è il prodotto interno nord che è un flusso di beni e servizi la moneta è uno stock c'è una quantità limitata vi faccio un esempio che è molto chiaro l'altra volta non l'avevo fatto è come la moneta non può essere la ricchezza è un paese perché è come se dicessi che il metro con cui misura il campo con cui misura il campo è la terra è la zolla cioè la zolla è la zolla il metro è quello che mi misura l'ampiezza e il campo o come se dicessi che la lancetta e l'allorologio il minuto che segna il tempo è il tempo il minuto è l'unità e la misura quindi non è che se ho tutti i metri dentro la banca centrale sono ricco io sono ricco se ho beni servizi strade scuola sanità così via andiamo avanti poi ah questo l'ho messo per rispondere a Maria Teresa che l'altra volta mi ce l'ha fatto pensare è molto breve in realtà è una riflessione sul fatto che il PIL è una grandezza economica ma non copre una serie di variabili importanti che sono quelle relative a quelle che poi determinano il benessere di un paese di una persona infatti praticamente il benessere di una persona e quindi il benessere che c'è in uno Stato si estrinseca certo tramite il PIL perché poi dopo è una capacità di spesa mi permette di accedere bene ai servizi ma anche per altri fattori sociali ambientali oppure misure di uguaglianza o di sostenibilità per esempio Shanghai ha un inquinamento che ti manda in giro con la mascherina sarà ricco sfondato ma mori in cancro e polmoni e non è che stai tanto bene andiamo avanti allora c'è un report dell'ISTAT che dice che ci sono 12 dimensioni per valutare il benessere di un paese che sono salute istruzione sicurezza passaggio al patrimonio relazioni sociali adesso le leggo tutte per brevità però ecco sono magari c'è un'insegazione anche nel PIL però non sono direttamente legate al PIL poi Laftington Post ha pubblicato recentemente una notizia che diceva che le Nazioni Unite hanno individuato 6 indici fondamentali per stabilire se i cittadini di un paese sono felici o meno oltre ai classici come la salute la senza di corruzione e l'aspirativa di vita sono stati è stato tenuto conto anche di fattori come la generosità la libertà di scelta la presenza di qualcuno su cui contare e hanno redatto con l'aiuto appunto delle Nazioni Unite il World Happiness Report del 2013 pure di questo ho messo il link lo potete vedere e ho messo velocemente la graduatoria di questo report l'Italia è il 45esimo posto la Finlandia la Francia la Germania 25-26 gli stati l'Inghilterra 17 i primi sono tutti quelli nordici che non stanno guardate caso nell'Ele cioè la Rimarca l'Orvegia Svizzera Olanda e Svezia e questi hanno anche poi lo vedremo in un altro incontro i più alti livelli di protezione sociale e sul lavoro ok per cui cioè questa è gente che va beh non è poco però allora questa è l'identità contabile dei saldi settoriali ve la spiego passo passo però non è tanto difficile dovete avere un minimo di attenzione ma praticamente c'è un'identità che è contabile non è economica non attiene a nessuna teoria va bene e praticamente analizza il PIL il prodotto interno lordo alla parte della domanda e poi la parte dell'offerta e dice che il PIL è uguale alla somma dei consumi degli investimenti privati della spesa queste sono lettere prese dal modo inglese di chiamare le cose quindi government e più la differenza fra export e import questa stessa identità può essere rigirata dalla parte dell'offerta prima la parte della domanda cioè quali sono gli elementi che mi domandano dei beni qua invece chi offre e ti dice che il PIL è uguale alla somma dei consumi privati più i savings cioè i risparmi più le tasse adesso non vi spaventate allora come sapete che se A è uguale a B è B se A è uguale a B sì e B è uguale a C A è uguale a C va bene quindi qua c'è la prima il PIL e qua c'era il PIL era uguale al PIL tutti e due per cui l'ho messo uguali va bene poi è semplice nelle equazioni e te puoi ugualiare a 0 però che fai devi cambiare i segni quindi C sta lì e C va qua con meno sta lì e S va qua con meno e risparmi la spesa governativa rimane qui con più le tasse vengono di qua con meno e poi rimane export meno import che è uguale a 0 ora se vai avanti praticamente viene fuori che le variabili che fanno riferimento alla spesa privata al settore non governativo va bene cioè gli interessi meno i risparmi più la spesa governativa meno le tasse più la differenza export import è uguale a 0 va bene adesso facciamo finta che io esporto esattamente quanto importo esporto 3 e importo 3 quindi questo fattore è 0 così vi facilito allora siccome la somma di questi due deve fare 0 vuol dire che a livello aggregato cioè dentro il sistema Italia per poter guadagnare o aumentano i soldi questi oppure hanno più risorse questi ci sei? ci siete? cioè o gli investimenti dei primi cioè se la spesa governativa diminuisce a quel punto vuol dire che di qua qualcosa deve aumentare quindi deve aumentare l'investimento privato ci siete? è uguale se la spesa governativa tassa se nello Stato tassa più di quanto spende vuol dire che questi qua non riescono a risparmiare ci siete? vai avanti questa è l'immagine che praticamente riprende sempre l'equazione deve portare sempre zero quindi il succo è se io tolgo da una parte vuol dire che aggiungo a quell'altra però se la spesa del governo diminuisce tanto vuol dire che i privati ci devono mettere loro i soldi però che succede? che i privati non possono stampare la moneta e per cui il privato si è indebita e l'indebitamento nel settore privato non è sostenibile l'avete seguito? lo puoi ripetere questo sì allora torno indietro praticamente guardate qui fate finta che qua c'è lo Stato e qua ci siamo noi va bene? fate finta che qua ci girano qua dentro 100 soldi allora se per quanto per quanto questi soldi possano girare siccome io non li produco da me passano a lei da lei passano a te però sono sempre 100 soldi va bene? se lo Stato mi tassa dei 101 vuol dire che qua dentro rimango a secco dell'anno avete visto deve portare 0 per cui se aumenta una parte e l'altra diminuisce è proprio un'identità contabile quindi se qua c'è 100 perché qua c'è 100 perché c'è 100 mettiamo che lo Stato spende per i cittadini 50 qua va da 150 se poi lo Stato ritira in tasse 60 qua dentro non c'è sta più 100 ma c'è sta 90 perché io non so non me le posso produrre i soldi non li posso stampare per cui mi indebito e di conseguenza quando il settore governativo immette liquidità cioè fa la spesa pubblica e costruisce l'ospedale oppure paga i dipendenti statali quei soldi che il sistema governativo arricchiscono il sistema il privato al netto perché gli arriva gratis questi soldi ci arrivano dall'alto mi sono spiegata se io pago a lui io mi impoverisco e lui si arricchisce ma se lo Stato che li stampa non sto parlando dell'euro ma se lo Stato che li stampa fa un piano di investimenti produttivi quel piano di investimento produttivo entra qui dentro e ci arricchisce va bene ci arricchisce ma se lo Stato vuole fare pareggio di bilancio e G meno T T è uguale a G va bene cioè la spesa del governo è 100 e decide di tastarvi 100 lui si riprende tutto indietro l'ho spiegata? e questo è l'unico modo per far respirare il settore privato se G è uguale se la spesa del governo per noi è uguale alle tasse è che i paesi si esportino più di quanto importino quello che fa la Germania cioè l'unico io prima avevo detto fate finta che import e export è più 3 meno 3 quindi 0 invece se fosse positivo l'export in quel caso il sistema non governativo si arricchisce dei soldi che gli arrivano dall'estero infatti quando io ho definito il PIS dicevo che è un flusso di beni e servizi escluso compresa la moneta estera quindi la moneta non è la ricchezza dei cittadini esclusa quella estera che gli arriva e gli riempie le casse quindi quindi questo è l'avete capito? si quindi i tre settori non possono contemporaneamente essere in surplus va contro le leggi della contabilità quindi il debito di qualcuno è il credito di qualcun altro quindi il debito dello Stato quando si dice che lo Stato che dobbiamo riparare e pagare il debito dello Stato se lo Stato ha la moneta sua non gli deve ripagare niente perché in realtà quando lo Stato fa investimento spese produttive o paga il bidello al bidello lo stipendio gli arriva al netto non è che glielo do io glielo dà un'entità che se li può stampare e per cui è al netto il bidello viene pagato ma non si impoverisce nessun altro è al netto questa cosa quindi che può essere in debito? il settore non governativo famiglie aziende enti eccetera essendo l'utilizzatore la moneta deve essere in credito se fosse in debito significherebbe che non ci sono più soggetti degni di credito il settore governativo c'è lo Stato vedentore del monopolio la possibilità di essere in debito questo ovviamente prima che arrivasse l'euro perché adesso con l'euro noi sappiamo che la banca centrale europea non può per divieto finanziare i deficit pubblici per cui lo Stato adesso come adesso si finanzia solo andando ai mercati privati finanziari e cedendo titoli a tasso di interesse sulla base di quanto cresce lo spread lo spread lo ripeto è il differenziale tra qual è il rendimento dei bond tedeschi e il nostro rendimento sulla base di quella di varicazione lì quella differenza i mercati ti dicono te compro un bot un titolo a 10 oppure te lo compro a 7 se lo spread è più basso tu sei più solvibile te lo compro a 5 se è più alto il rischio che non me ne dirai è più alto e quindi il denaro per prestartelo te lo fa pagare di più sostanzialmente è una scommessa sulla debolezza o la forza di imparare una scommessa sì è una scommessa tutto il sistema del mercato in questa maniera è una scommessa perché te in realtà non è che lo sai come andranno le cose il problema è che lo Stato adesso come adesso c'ha poco c'ha pochissimo anzi veramente insignificante margine e manovra per cui loro lo sanno tipo la notizia in questi giorni era che la Grecia i tassi della Grecia erano truccati e per cui i vari bailout sono stati truccati no? sta gente lo sa quello che fa e fa in modo che te non ti salvi cioè la griglia è stringente loro lo sanno che è stringente no il settore estero può essere in debito in credito il problema qual è? che se te c'è moneta tua puoi sostenere il mercato interno cioè fai un investimento produttivo e la domanda interna la sostieni te cioè se te hai cittadini non ne so sistemiamo tutto il distenso idrogeologico in Italia sai quanta gente ce lavora? una marea te gli dai soldi al netto l'Italia è più decente non ti sfasci la macchina quando vai in giro per strada e il paese si arricchisce quindi la domanda viene sostenuta altrimenti l'unica alternativa è che te hai soldi all'estero e per cui se te non puoi sostenere la domanda te come stato a quel punto cerchi di vendere all'estero come il pane perché se no non c'hai soldi all'interno ti indebiti come cittadino privato allora per cui adesso vi faccio vedere come viene letta quell'identità a seconda delle diverse visioni perché a seconda delle ipotesi con le quali si analizza la realtà economica i fattori dell'identità si ottengono delle dinamiche diverse cioè allora per gli eterodossi siccome il governo deve entrare mettere in discussione il mercato regolamentale e poi stampare moneta può decidere di spendere a deficit più di quanto tassa e questo perché pure abbiamo detto che per loro l'economia non è basata sulla scarsità ma sulla produttività e sulla crescita invece per gli eterodossi che ti dicono siccome la moneta è scarsa siccome i beni e i valori sono scarsi te governo mi devi passare quanto spendi per cui quando mi dicono il debito non si sa sui nostri figli c'è 30 milioni ciascuno un macello è perché il presupposto è questo perché siccome la moneta i beni sono scarsi ovviamente te fai fatica a reperirli quindi te anche lo Stato e quindi lo Stato non può spendere non c'ha facilità di spesa ma deve spendere quanto tassa ma se voi in quell'identità lì allora abbiamo messo che l'estero a zero il sistema governativo a zero il settore privato come cavolo fa? cioè chi è che gli dà i soldi al settore privato? ci stanniamo tra noi gira sempre quei cento soldi e passa a me a te a te a lui poi io muoio ok? se voi ci pensate da qualche parte venire questi soldi se in un in un'economia mettiamo chiusa in un villaggio africano del che ne so del XII secolo quando non c'era tutta sta roba questi andavano avanti uguali senza export senza sistema governativo quindi in realtà uno se ne può produrre le cose non so se mi sono spiegata se è chiaro e quindi praticamente se parlate con gli ortodossi loro mi dicono ma guardate in quell'equazione lì quando viene e quell'equazione lì è spiegata in questo modo nell'università la maggior parte anche i media partono da questa interpretazione cioè che la moneta è scarsa quindi lo Stato non può stampare e quindi non può fare questa opera di sostegno dell'economia però se voi vi ricordate la volta precedente io avevo detto che dal 71 con Nixon che ha detto liberi tutto liberi tutti è stata tolta la convertibilità con l'oro e si è stata inventata tra virgolette la moneta corso forzoso cioè una moneta che te te prendi per forza che non è che vai dalla banca e gli dici mi converti questi 5 euro in 5 pipite d'oro al massimo questo te può dare 5 monete da 1 euro quindi la moneta è un puro segno di valore non c'ha un valore dietro eccetto l'unico limite perché se no uno dice beh stampi fino all'infinito stai nel mondo del bengodi no come nella nella tribù africana di cui sopra qual era il limite della ricchezza il limite della ricchezza era quella produttiva cioè se io ho un campo come me fa 5 rocci di cocco 3 capre e 4 stuini la ricchezza del villaggio è quella poi dopo la moneta mi serve per far comprare tutti gli stuini e poi se c'è tanti stuini che c'è bisogno a quel punto c'è più moneta per far più stuini e chi fa gli stuini c'è più moneta e si compra pure la caraffa ve l'ho spiegata? quindi in realtà questa questa scarsezza da quando non c'è più l'oro come controvalore non si capisce dov'è è uguale un'altra caratteristica la moneta sovrana quando le dicono non deve essere fluttuante non deve avere la parità con nessun'altra moneta cioè se te dici che un euro deve essere uguale a un dollaro cioè che per ogni euro più spendere non è economia come stava fatta con l'argentina prima il default che per ogni euro non è economia cioè deve essere un dollaro a quel punto è come legare quella moneta del paese a un altro bene concreto perché vorrà dire che il governo di quel paese dovrà cercare per ogni moneta ogni pesos o quello che è che butta fuori un dollaro e a quel punto c'ha limiti esattamente come se ci fosse l'oro quindi quell'equazione lì se avevamo l'oro al posto della moneta è vero che lo Stato non può spendere più di quello cioè deve tassare quanto spende o quantomeno può spendere solo nella misura in cui c'ha l'oro che gli fa fede dopo di che ne va in banca rotta ma siccome non è più così te ai cittadini gli puoi dire guarda mi servono bravi medici mi servono bravi insegnanti mi servono le strade mi servono le scuole ve pago voi diventate domanda la domanda genera l'offerta e il paese cresce noi dovremmo fare solo la domanda io devo andare a letto che sono vecchia non solo la domanda se volete che i griffini vince il vostro presidente non può offendere il presidente della repubblica prima per l'età che ha poi per la carica che ho solo così potete vincere lo dovete togliere di mezzo perché è troppo maleducato mi dispiace ecco scusate ma chi è lui che è più indagato di tutto ma senta siccome è una serata che non si occupa di questo no no io sono a posto io sono non è che mi interessa ma chi è che tutti i giorni siamo i soldi trappa lunga sta facendo non è tanto ma bene non è tanto andate a me se importa solo dei vincere ti manda via quelli parta non ci siete riusciti non ci riuscite allora dovete manda via parta questo ma perché non mandai via quel serpente con me scusa o voi se saluto perché devo andare a mezzo buonanotte 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 anche se il settore estero non è in surplus insurprus vuol dire che noi esportiamo più di quanto importiamo la domanda interna se invece in situazioni di crisi può essere sostenuta dall'aspetta governativa invece il settore che invece per gli ortodossi scusate mi sono un po' sconcentrata l'unico l'unico settore che può sostenere la domanda interna è il settore estero quello che voi ci ho detto e quindi in situazioni di crisi per aumentare la competitività e fregarli sul settore estero c'è sempre la solita ricetta della deflazione salariale deflazione vuol dire diminuzione cioè inflazione è come se io soffiassi sui prezzi in modo che se gonfiano e aumentano inflo in latino è soffiare invece deflazione è il contrario sgonfio quindi la deflazione salariale è sgonfiare deflazione è la parola che indica che sgonfio qualcosa poi fa stato un professore della UMKC americana che è un po' schienesiano che dice il deficit pubblico deve essere uguale all'attivo cioè al surplus non governativo quindi il deficit è l'immagine speculare del surplus non governativo cioè famiglie e aziende nell'identità macro contabile quella che avevo fatto vedere prima di base in cui il settore non governativo include famiglie aziende e governi se si vuole ridurre il deficit di bilancio allora si dovrà accettare la riduzione del surplus non governativo per eliminare il deficit pubblico bisogna eliminare il surplus del settore privato quindi è sempre quello siccome se io sono in debito qualcuno è in credito se in debito è il governo siete in credito voi se in credito è il governo siamo in debito noi in debito vuol dire che non pago più il ticket perché la scuola non passa più il laboratorio il bambino questo ma questa è un'altra equazione sempre cosa è di Kaleschi che dimostra la stessa cosa identica dove p è il profitto quindi ti dice che il profitto totale è in funzione di queste variabili qua cioè il consumo dei capitali gli investimenti il deficit pubblico ah beh non ho preso il colore poi l'export meno l'import e i sparmi allora per farvelo capire meglio facciamo finta che non risparmiamo niente nessuno risparmia niente con la guagna e facciamo finta sempre che l'export è uguale all'import quindi più 3 meno 3 viene fuori che il prodotto totale il profitto totale è uguale ai consumi più gli investimenti produttivi che fanno girare l'economia più la spesa governativa se questa non c'è più questo diminuisce e questa è un'altra identità contabile che ha eschi addirittura prima di di Key e di niente è così c'è matematica adesso c'è una carrellata immagini allora questo è riguarda gli Stati Uniti io poi farò vedere altre cose allora praticamente il verde lo vedete bene tutti? il verde praticamente è il settore privato siamo noi poi il rosso è il settore pubblico e la linea tratteggiata è il settore estero se voi guardate se voi guardate pubblico non so è privato è pubblico vedete che sono speculari praticamente vedete che più qua va sotto il sistema governativo questo è lo zero questa è l'identità contabile di prima dei bilanci settoriali vedete che qua è uguale al picco di qua su quindi qua le famiglie e le imprese erano in credito sono andate su ma perché sotto questo ha speso è tutto speculare se lo vedete adesso perché questa è proprio la parte che si vede proprio bene però è tutto speculare perché è un'identità contabile cioè non è diciamo una teoria economica questa è l'Italia l'Italia dal 96 al 2011 in qualche parte non è proprio speculare perché non hanno diviso anche il settore estero però vedete che sostanzialmente segue lo stesso andamento questo invece l'Italia ce l'ho messo apposta col settore estero diviso current fund balances è l'estero rosso il settore pubblico blu il settore privato vedete questi sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti gli Stati Uniti eh sì scusate sono stanca si mi sta in Inghilterra eh sì tanto questo la Germania qua non c'è sta questo va su perché c'è pure l'estero la Grecia eh sì quindi sta tutto sotto sì l'Irlanda Portogallo stavo detto sta messo male Stati Uniti e questo per farvi vedere che poi quando andate a vedere veramente come funziona funziona così quindi il debito è la ricchezza dei cittadini non è il debito di nessuno se c'hai la moneta tua se c'hai l'euro siccome lo devi restituire a interessi salatissimi ai mercati finanziari e non lo produci ovviamente in questo caso è un debito reale cioè quindi quando Prodi ci ha fatto entrare nell'euro ha trasformato improvvisamente il nostro debito finto in un debito vero cioè vi rendete conto? ha trasformato un debito che era finto in un debito vero e lui lo sapeva allora andiamo avanti Abba Lerner e la finanza funzionale sulla base di questo discorso qui Abba Lerner che è un altro importante economista sviluppò praticamente il concetto di finanza funzionale cioè diceva che un'economia un sistema finanziario è funzionale quando si propone come obiettivi primari quello del pieno impiego e della stabilità dei prezzi senza dare cestivo peso al debito pubblico guardate questo è morto nell'82 per cui l'euro non c'è la finanza funzionale dei Lerner teorizzata proprio quando negli Stati Uniti si fronteggiava la grande depressione nasce seguenti i presupposti la disoccupazione è un elemento normale dell'economia capitalista il mercato non si autoregola le decisioni dei produttori non sono coordinate con quelle dei consumatori cioè quello che dicevo prima tutti facciamo una scommessa quindi possiamo sbagliare questa si contrappone all'idea autodossa per cui il mercato si autoregola questo l'abbiamo detto fino alla morte quindi Lerner capisce che se il governo ha intenzione di aumentare la domanda aggregata cioè quanto domandiamo noi cittadini insieme per mantenere stabile il livello di occupazione le misure da intraprendere aumenta la spesa pubblica o diminuzione le tasse devono tendere alla creazione di un deficit se invece l'intenzione è quella di diminuire la domanda aggregata le misure da intraprendere diminuzione la spesa pubblica o aumento le tasse devono tendere alla creazione di un surplus vi faccio notare che noi abbiamo aumentato l'IVA quindi aumentato le tasse ma non abbiamo nessun tipo di possibilità di aumentare il deficit per cui la ripresa in quale mondo la vedono? non so andiamo avanti Lerner sosteneva che se la montare la spesa della tassazione richiesti per raggiungere obiettivi macroeconomici come la piena occupazione dovessero entrare in conflitto con principi di efficienza finanziaria come il pareggio e il bilancio o il limite della spesa pubblica allora tanto peggio per tali principi promuovere il pareggio e il surplus di bilancio o il rimborso del debito pubblico senza riguardo per le conseguenze macroeconomiche si chiama finanza disfunzionale questo è V V Cray che è un premio Nobel per l'economia il debito pubblico non è un peccato economico ma non è necessità economica e voglio finire applausi tu sai come si chiama il mariso della il mariso della presidentessa della Federal Reserve che è stata ha detto che era chienesiano è la moglie di un premio Nobel dell'economia è stata poi ieri è stata nominata la signora con capelli molto bianchi si lo dice no non so che come l'hanno nominata e poi non è che si diceva che non andasse si diceva così si diceva che andava su nati invece no poi il nome Endry l'ho letta la notizia l'ho vista però non non ho fatto caso non l'ho memorizzata niente l'ho lasciato attuali ci ritorneremo ci ritorneremo ci ritorneremo ci ritorneremo per rompere il silenzio niente interessante no praticamente te hai parlato di queste teorie di queste che poi sono incontrovertibili in qualche modo perché sono quantità come dicevi matematiche però diciamo noi tutti i giorni in televisione sui giornali sentiamo delle affermazioni che si basano su quelle teorie lì però poi fanno diciamo dedurre delle cose che invece secondo me non sono la logica conseguenza di quello che hai spiegato stasera per esempio te dicevi che la domanda è una cosa positiva perché crea e fa parte il lavoro in qualche modo però la domanda in assoluto non è detto che sia una cosa positiva noi lo sentiamo dire tutti i giorni continuamente si aumenta la domanda l'economia gira perché praticamente se io spendo di più quello che io spendo chiaramente viene utilizzato per fare degli investimenti quindi crea occupazione si crea un circolo diciamo virtuoso però questo in assoluto è vero cioè in assoluto però vuol dire tenendo costanti tutte le altre variabili cioè non vuol dire che è una cosa sempre giusta nel senso se io faccio un esempio se io acquisto un prodotto che è di nessuna o di poca utilità io è vero che aumento la domanda è vero forse che aumenta anche l'occupazione però comunque nel lungo periodo io diminuisco la ricchezza del paese e secondo me è quello che è successo un po' negli ultimi 40 anni però questa è una cosa è come dire per esempio gli Stati Uniti hanno il dollaro però lo spendono per il petrolio e per le guerre esatto però non è che si però questa è una scelta politica non c'entra con la teoria economica però io che ne parlo sui giornali sulla televisione e secondo me riuscendo anche a far passare un messaggio sbagliato ci convince che appunto da quelli cose che sono giustissime la questione qualitativa non conta però quando io faccio un esempio di lo geologico è perché perché come ho detto pure l'altra volta l'economia è uno strumento la famosa macchina per cui io posso anche stampare tutta la moneta che voglio però se il mio sistema produttivo è fatto per fare le guerre terò più in occupazione ma essenzialmente scorto la guerra quindi dopo a quel punto è la comunità il sistema politico che deve interrogarsi e dire la moneta appunto è il metro non è la zolla di terra ma la zolla di terra io ci voglio far crescere il grano oppure la voglio intossicare ancora l'ossina però scusa secondo te non passa questo di messaggio si si no il messaggio non pensa che qualunque cosa che io compro faccio un bene all'economia ma perché qua siamo bombardati da un sistema che l'importante è che compri che appari che sei che c'è la macchina infatti secondo me uno dei motivi della sua identità crisi è quello cioè non è una questione solo finanziaria è il fatto che comunque negli ultimi 40 anni è aumentata l'efficienza del lavoro nel senso che produciamo di più a qualità di lavoro però produciamo cose che non sono utili ma è cambiata la politica economica però eh si però tu stai facendo una critica al capitalismo no io non sto per la loro critica al capitalismo io sto dicendo che siamo anzi noi che forse ci arriva questo messaggio continuamente che comunque è solo una questione di quantità invece non è così cioè anche il lavoro continuamente dicono come se il lavoro fosse una cosa positiva in assoluto non è così il lavoro è un costo quindi meno lavoro utilizziamo per produrre quello che ci serve meglio è si lo so però bisogna vedere se te operi sempre scelto e poi o hai una finanza funzionale che nel modo in cui l'entendeva l'erner abbia un'occupazione o no perché se tu dici ottimizzo la produzione ci sono già in Cina degli stabilimenti automobili dove non c'è manco la luce perché fanno tutti i robot ok e questo voglio dire il robot quante volte può sbagliare di meno di nuovo però allora la scelta è politica allora te vuoi fare invece la popolazione che muore fame oppure gente che lavora e che te fa i prodotti no ma scusa l'automazione è una cosa positiva sì io ho capito ma se te se te estremizzando il discorso spingi l'innovazione tecnologica talmente tanto che la mano d'opera necessaria è 0,1 2 perché mi serve solo il tecnico quadro che mi riassetta le schede elettroniche è una cosa positiva ma sarà positiva ma la gente non c'è ma spazio ma il fine del sistema economico non è lavorare è produrre allora non ho capito no il fine del sistema economico è la piena occupazione cioè il benessere del paese però il benessere del paese che non è necessariamente il lavoro non è lavoro è quello che io produco cioè quello che mi serve ma il lavoro potrebbe essere pure che io invece fa lavorare tutti sei ore ma fa lavorare tutti e te do un salario dignitoso cioè la scelta è proprio politica quella è la distribuzione del lavoro però tornando al villaggio famoso del Botswana no? cioè dove non c'è il denaro non c'è la finanza eccetera eccetera lì lo scopo di ognuno di noi e poi lo vediamo in quello che facciamo se io a casa spacco la linea se ci metto un'ora sono più contento che se ci metto dieci ore quindi meno lavoro ma quello è chiaro ovviamente ma poi io mica voglio mi ammartellare la lavatrice perché poi andando giù fiume la lavatrice cioè non ho detto questo cioè la tecnologia va benissimo tant'è vero che pure questa teoria qua parte all'assunto che te puoi sempre migliorare una tecnologia per cui puoi aspirare alla crescita se no a me mi è venuta tante volte in mente la critica sì vabbè ma quanto vuoi cresce tanto le risorse del paese del pianeta sono limitate non puoi crescere però è pure vero che se te acquasto il petrolio e ci sarebbero già le risorse usi il solare il leonico non lo so per un vento l'energia la fusione fredda ok te potresti evitare Fukushima e mandi uguale le macchine ma motivo per cui questa innovazione tecnologica non è stata abbracciata è perché ancora fa comodo ai petrolieri la vecchia e il petrolio quindi la tecnologia se è vista in maniera come diceva una delle cose del benessere sostenibile significa che te in un certo sistema puoi anche pensare di organizzare le cose in modo che le risorse le esiste cioè le rendi le tre ore le pregiamo andava a lavorare tutti lavorare meno ma infatti è quello però secondo me se te fai la inveterità negli ultimi decenni no non lo vedo come reddito almeno mi interessa la moneta mi interessa le cose reale per capire per capire scusa lo faccio capire io lavoro per il governo cioè noi te che lavoriamo per il governo e tre mesi che non prendo la paga abbiamo fatto un lavoro ma non è stato neanche pagato non c'è soldi però io sono un'agronomia non è quello di caso simbolo questa è l'economia no io come vado avanti non la capisco io non ho detto che te non devi prendere lo stipendio il governo non c'è soldi non lo paga scusa io ho detto una cosa diciamo generale io non sto a dicere una cosa particolare è chiaro che ognuno poi guarda il suo però io sto dicendo in generale cioè quando ha chiuso la fabbrica faccio un esempio vicino a noi ha chiuso una fabbrica produceva yacht a Fano no? è chiaro che se andavo a dire all'operaio che ci lavorava che gli yacht non servono a niente mi sputava in un occhio perché mi diceva a me però mi arriva il mio reddito però se tu guardi la globalità cioè tutta l'economia se tutti noi per assurdo producessimo cose inutili saremmo tutti poveri anche se lavoravamo la mattina e la sera e secondo me lo scopo di chi ci governa è questo cioè farci lavorare tanto per produrre cose che non ci servono cioè che è l'unico modo per tenerci schiavi perché è così tanto inutile negli ultimi 20-40 anni la tecnologia ha aumentata tantissimo oggi abbiamo i computer abbiamo le macchine con un'ora di operaio si riesce a produrre 10 volte di più di quanto si produceva 40 anni fa però non siamo più ricchi come può essere sta cosa? non può non è per me non è per me non è per me se qualcuno batteva la moneta a me mi aveva pagato fine non è per me se no parterebbe stampare la moneta non ci sarebbe più bisogno di lavorare per me è quello non è è perché abbiamo prodotto tante cose in più ma tante cose che non c'erano utili quindi non siamo felici per me è così ma non è ma non è pagato è quello che diciamo naturalmente secondo me si sono un po' intrecciati i discorsi secondo me perché questo non è sbagliato naturalmente che si è un po' intrecciati i discorsi adesso magari era a livello un po' più avanzato questo no capito che ma tanto che vuoi che ti dico in televisione tra l'ha detto anche loro il paradigma dominante il paradigma dominante è quello che muove la Commissione Europea è la politica neoliberale quindi comunque si ha si muove su quel paradigma di quindi possiamo fare da oggi a domani tanto la scuola di Sicaso che no poi penso che lo sai certo la prima non è che sbagliate in questo è un carimento siccome ho letto da sfuggire su una Repubblica è uscito quell'articolo che riguardava il caro desecretato quei documenti che riguardava proprio la situazione perché hanno voluto far fallire perché hanno voluto far fallire non lo so questo serve un capo spiatorio non lo so perché non lo so e non avete neanche tutte voi scusami no 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 non lo avete neanche tutti perché il debito della grecia nasce da un prestito fatto dalla la cosa nel 2001 2000 e da lì che poi è nato il debito che non è stato più in grado di istituire 1 perché non baste moneta 2 perché tratta nell'euro e quindi c'era raggiungere quel discorso lì e da di esploso il debito però con i documenti fondamentali nazionali riguardano le decisioni successive per il pagamento del debito ma il motivo principale per cui il debito esploso è stato un bail out fatto la guardam sacks nel 2000 a 2001 se tu vai non è stato un prestito fatto a suo tempo per entrare nell'euro europea perché almeno gli si abbassava comunque sia anche i limiti i parametri con cui si doveva entrare no ricordate una volta da un rispetto dei parametri allora sognava di debito e tatatata comunque questo prestito loro sono riusciti a entrare però poi le rate e gli interessi sono esplosi quindi sono visti nel futuro e in questo modo poi è stato poi tutta quella scaglia dei venti che sono venuti fuori comunque se lo cerchi lo trovi eh prestito proprio sull'ultimo non è che dice un tornare l'ultimo marzo tutto noi ce l'abbiamo grazie a una relazione e un paio di domande forse sono state già chieste la prima cosa io sono fortemente europeista però abbiamo visto i limiti dell'euro sarebbe una soluzione ipoteticamente far parte dei stati d'europa e la banca europea diventasse come la terra riserva perché il premio nobel dato per la pace dell'unione europea secondo me è vero è stata una buona cosa cioè se c'è la guerra in europa da 60 anni è perché c'è l'unione europea non per altri motivi però è chiaro che i limiti poi essersi di forte dietro quindi ecco prima cosa se avessimo gli stati uniti d'europa seconda cosa io non ho ben capito come si può stampare così moneta dal 71 in poi se ho ben capito non avendo più un valore reale ma soltanto nominale uno continua a stampare moneta l'inflazione come si può evitare perché c'è sempre questo spettro nell'inflazione quindi non ho ben capito come si riuscirebbe a evitarlo allora per quanto riguarda la prima domanda sì cioè se l'unione europea funzionasse veramente come gli stati uniti cioè gli stati uniti hanno degli stati che non hanno la capacità di partire moneta però c'è uno l'unità l'unione fiscale per cui i paesi del nord sono d'accordo tramite la divisione insomma delle entrate fiscali verso il sud a salvarne essenzialmente quindi di fatto tutto quello che viene raccolto il gettito viene diviso per le necessità di tutti e in più la federal reserve fa una banca centrale per cui se te vai su youtube c'è Barnachi che era il capo della federal reserve che ti dice che mi ha intervistato e gli sei chiede un giornalista diceva ma è possibile che gli stati uniti siano insolventi sul debito non paghino più i titoli e lui risponde no perché si stampa estenzialmente perché possiamo sempre stampare se ce la faccio quello trovo il problema è che la bce non lo fa cioè la bce nell'articolo 123 del trattato di funzionamento dell'unione c'ha il divieto espresso i finanziari i deficit pubblici tutti i deficit pubblici la bce è privata come privato il sistema le banche centrali che prendono le decisioni insieme all'unice quindi il board e il formato tutta la gente non è verità e di conseguenza non c'è questa volontà anche il fatto stesso cioè la Germania l'ultima l'ultimo incontro sarà sulla Germania tutti i falsi metri alla Germania quello che ha fatto prima quello che ha fatto dopo l'euro mi farò vedere le cose cioè la Germania c'ha mi pare sei punti di che è quello che ha fatto quando il fondo monetario internazionale stabilisce che te cioè che l'export ottimale di un paese deve essere di quattro punti e mille non più di quattro quindi di fatto la Germania sta andando forte perché esporta come un accidente va bene e la Germania non solo esporta ma le banche tedesche tedesche hanno speculato tantissimo su il debito sovrano degli altri paesi ci hanno in pancia più a più a due titoli nostri carta straccia e non c'hanno nessuna intenzione di aiutarci ecco perché non vuole che salutavano e quindi non vuole che salutavano che uscivano all'euro ma la Grecia ma perché non l'ha fatta uscire ma Cristo Santo ma falla uscire sta a morire salvata sta dentro però nella condizione che c'è le notizie c'è tutti i giorni delle manifestazioni tutti i giorni cioè la situazione è veramente tragica perché non hanno fatto uscire capito? il problema è che ci fossero gli Stati Uniti d'Europa ma perché veramente gli Stati Uniti d'Europa sono formati da gente che hanno a cuore le sorti di tutti i paesi questo è comunque una guerra non facciamo la guerra con le armi è una guerra finanziaria è il capitale che si è distaccato dalla politica esattamente è la finanziarizzazione degli Stati e lo Stato quando io c'è la cosa che a me di tutto sta facendo a me mi sconvolge che io sono andata a scuola ho studiato la storia e quando andavo a storia ho studiato la storia e mi dice madonna che culo che sono nata adesso perché c'è lo Stato di diritto perché c'è l'abeas corpus per cui la gente non mi può venire più a casa e fa scomparire da qualche parte senza prove perché ho dei diritti e delle tutele non si vede più questi diritti e delle tutele perché io la pensione non ce l'avrò ho il contratto bloccato e non si sa quanto le tasse ti sfragassa fra tutte le accise e l'IVA non si vede la fine ma io sinceramente da qui a poco sono preoccupata non solo per mia madre perché magari non sono sicura se gliela farò garantirgli la pagante le cure sanitarie che gli dovessero servire perché io ho lo stipendio mio che arriva più a lì non arriva ma poi per me e non c'è questo ma andai ma non c'è questo tipo di volontà perché io ho fatto vedere perché ho dichiarato ma non poi a proposito ma allora leggi ecco l'UE non diventerà mai il mio stadio di teolo e quindi però io ti capisco a te perché quando ho visto la conferenza del manifesto di solidarietà europea di Bagnai e questi sono degli economisti italiani dei redossi che come diciamo ancora in solvenza hanno detto che propongono di creare un'Europa del sud e un'Europa del nord a due velocità con monete una più forte e una più debole cosa che sicuramente quelli del nord non vorranno fare però secondo loro è una soluzione e c'era gente mi pare il guarino e poi c'era pure un altro ministro che era proprio fortemente europeista e era europeista di quando fu pensata l'Europa e penso fosse in buona fede poi non lo so però lui diceva che lui ci credeva a questa cosa all'unione alla cooperazione al mercato aperto nel libero scambio alla circolazione delle persone e quindi non è che l'Unione Europea c'è solo cose negative ma pensiamo perché come è sempre in stazione di stasera la Gran Bretagna ha detto attaccatevi io l'euro non lo voglio e sta solo per lui fin dall'inizio ma anche lui quando mi riguarda l'altra sera avevo detto non entra nemmeno nello SME fino al 1990 allora qualcuno gli è stato permesso qualcun altro no mica tutti hanno firmato i trattati questa è una cosa poi l'inflazione praticamente questo sarà l'oggetto della quinta serata e ne parlerò proprio con tutti gli esempi del mondo però praticamente forse l'ho detto ma l'ho detto in maniera che non si capisce ma non è vero che le teorie che vi ho proposto io come tanto un pochetto sono di parte quello capito dove vanno io ad appare no però non è vero che l'idea di questi economisti qui poskenesiani è di stampare 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 non è questo cioè l'idea è un paese può uno stato può mandare o liare con della moneta il paese con degli investimenti pubblici quindi facendosi carico dell'occupazione dove il privato non riesce ad arrivare fino alla capacità produttiva del paese quindi se io posso produrre 10 pomodori lo stato deve aiutarmi a produrre 10 pomodori se io ne produco 12 vuol dire che a quel punto la moneta non è più commisurata alla scusate ho sbagliato sempre della moneta se metto più moneta rispetto ai pomodori scusate se metto più moneta rispetto al numero dei pomodori che ci può essere a quel punto interviene la svalutazione l'inflazione scusate l'inflazione perché l'inflazione è un fenomeno che accade quando c'è più moneta rispetto alla quantità di beni per cui se io ho 10 monete ma un bene è ovvio che il mercato si organizza in modo che quelle monete vengano spese per quel bene unico ma se io ho una quantità grande di beni che hanno una domanda a quel punto io avrò più agenti economici che mi chiedono hanno bisogno di quella moneta per comprare beni e a quel punto l'economia gira su questo proposito è illuminante chi ha tradito l'economia italiana di Galloni perché Galloni siccome ci stava al ministero del tesoro una volta dice addirittura che ai tempi c'era nel ministero un istituto di programmazione economica che programmava come doveva andare a regime l'economia del paese da lì ai successivi anni non so non mi ricordo quanti anni mettiamo 4 anni e pianificava gli investimenti produttivi statali perché ci fosse l'occupazione per tutti perché non fanno uscire la Grecia dalla comunità europea non fanno uscire la Grecia come la europea perché uno se esce uno se esce tutti e poi perché ci hanno vendito l'infancia tossici dei soldi che non gli ritorneranno più e per cui se la facessero uscire sicuramente tratterebbero il debito come non gli soldi non gli ritorneranno quando me si sono investati il modo per riferire questi soldi le banche 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 fai lo studio della comunità europea che dice che il nostro dedito pubblico si non conferiva il nostro spenibile la comunità europea lei postava tanto io adesso non lo so quanto effettivamente gli ritornerò indietro perché le cifre sono veramente anni lo studio della comunità però c'hanno sicuramente l'utilità c'hanno l'utilità per mantenere il sistema perché te c'hai l'impresione salariale un sacco di sperati che fai lavorare a zero lire e in più c'hai praticamente il dominio su tutti i paesi sud Europa non le costano quindi proprio cioè noi le banche stanno le piazze non è che c'hai tanto politica e manore e c'hai la possibilità di avere tanta mano d'opera che se il paese è alla fine delle disposizioni bravo stanno le prelando ma non solo questa situazione sta facendo svendere a man bassa tutto quello che ci abbiamo cioè se il debito è la ricchezza dei cittadini ma è certo che è calcolato una cosa che non ho detto è quella equazione lì quella prima dei bilanci settoriali è un risvolto politico praticamente gli ortodossi che dicono dicono che la spesa governativa disincentiva l'investimento privato cioè loro ti dicono che se però lo dicono in maniera arbitraria ti sostengono che se il governo spende a quel punto quella spesa lì che crea una domanda di fatto disincentiva il privato ma perché se io ho l'azienda statale dell'energia e magari stabilisco certe condizioni di lavoro certi standard e così via tolgo un mercato al privato per cui il privato e tolgo non solo un mercato al privato ma magari una fetta del mercato particolarmente appetibili le utilities i servizi l'energia le strade ok allora quando ti fanno quell'equazione lì i neoplastici ti dicono ma se lo Stato interviene troppo scoraggia gli investimenti privati uno non è vero perché abbiamo visto che più spende più spende in basso quello e più in alto ne abbiamo in alto uno ma poi il discorso in realtà è politico perché siccome loro vogliono la deregolamentazione del mercato perché il mercato mantiene la serie se io dico che lo Stato non deve fare spesa pubblica vuol dire e quel mercato lì di beni è del privato cioè se l'accaparra uno che è il privato allora paga fa le condizioni che dice lui sì come il prodotto che dice lui sicurezza del lavoratore che dice lui lo paga come dice lui e non c'è un competitor statale che ovviamente se lo Stato se poi parte moneta non c'è non c'è gara è ovvio che per cui la finanza funzionale vorrebbe essere fondata sull'equilibrio giusto tra investimento pubblico produttivo e investimento in privato adesso come adesso siccome stiamo come stiamo messi stanno hanno già iniziato agli anni 80 nel 92 un macello poi ve lo farò vedere però stanno svendendo tutti a 4 soldi tutte le partecipazioni le partecipazioni statali o addirittura il pubblico non c'è rimasto più niente e per cui loro anche se noi guadagneremo poco se c'hanno l'acqua il cimitero l'ospedale la scuola l'autostrada ovviamente ci avranno tutti i servizi privatizzati anche 10 venduti a 4 soldi perché stai la canna in gas e te magari le Puma le Nike non le vendi più perché loro ci avranno i mercati esteri però tu magari lavorerai sempre lì e il cimitero la paghi te devi spostare la vostra la paghi vuoi l'acqua e la paghi e allora fai guadagnolo su questo sto parlando altri livelli non sto parlando qua c'è la piccola maia impresa che in realtà ci ha anche salvato per esempio le bolle speculative quelle americane noi non ce le abbiamo avute perché gli italiani le carte di debito le carte di credito mi fa schifo io ce l'ho una della ricaricabile perché devo sapere c'è quello che c'è perché poi una volta che è finito è chiuso lì e poi le banche le piccole e medie aziende spesso a connessione familiare per cui in Italia su tipo dei giochetti qua ha atticchito poco pure il sistema bancario era abbastanza sano rispetto a quello che poteva essere in America che tutta la gente ha il macchinone perché se lo compra a Tati direi che possiamo chiudere qui perché cerchiamo di essere fedeli a quello che ci eravamo proposti cioè un'oretta di incontro e penso che l'abbiamo superato ringraziamo di nuovo Elorano perché sta facendo uno sforzo enorme per semplificare argomenti complessi io ho trovato molto interessante il primo spunto sarebbe da approfondire secondo me l'aspetto tra la domanda il consumo o meglio il consumismo mentre parlavo mi veniva in mente un video non so se lo conoscete la storia delle cose che io uso tantissimo a scuola è chiarissimo lo capiscono gli alunni lo siamo capiti tutti mi sono capiti prima io la cosa è fantastica io non lo so vedo dei giovani ma mi pare che tra di noi c'è un'età media abbastanza alta la schiena su queste mani quindi adesso la valutiamo questa cosa la prossima volta magari ci incontriamo a un'altra parte con delle serie non lo so vediamo che siamo un po' posticati e appunto su queste panche che sono mettono alla prova le schiene e semmai poi con un giro lo mettiamo su facebook su cerchiamo una sala un pochetto più capiente e anche un po' più comoda se ce la facciamo si va bene niente buonanotte grazie